Buona giornata amici di Fano TV, oggi è giovedì 15 dicembre 2022, ben trovati alla rassegna stampa, sono molte le notizie che appaiono sui giornali questa mattina, su quelli nazionali si parla diffusamente dello scandalo che si è verificato a livello europeo, poi abbiamo anche le notizie del campionato mondiale di calcio dove sono ormai svolte le semifinali quindi avremo una finale molto molto bella domenica prossima tra Francia e Argentina, la Francia ieri ha superato il Marocco, comunque i marocchini hanno festeggiato anche per il livello raggiunto dalla loro squadra che non era mai accaduto nel passato, quindi esultanza da parte di questa nazionalità. Ma noi ci occuperemo delle notizie locali a partire dall'almanacco del giorno, vediamo chi è il santo che si festeggia oggi. Eccola qui la sua effigie, si tratta di Santa Virginia Centurione Bracelli, forse non è molto conosciuta, era una santa che visse nel XVI secolo, anzi no, nel XVII a cavallo, tra il XVI e il XVII secolo. Era genovese, sposatasi per volontà della famiglia, un matrimonio non molto bene riuscito, rimase vedova molto presto, il marito era un vizioso e quindi morì probabilmente per gli eccessi a cui si era dedicato. Da allora Virginia fece voto di castità e si dedicò a coltivare la sua fede in maniera esemplare. Fondò l'ordine delle suore di Nostra Signora del Rifugio in Monte Calvario per formare le insegnanti che si prendessero cura delle giovani umiliate e sfruttate. Santa Virginia fu beatificata da Papa Giovanni Paolo II nel 1985, ed fu riconosciuto una vita esemplare, santa, per la Chiesa Cattolica. Ed ora passiamo alle previsioni del tempo. Vediamo che questa mattina il sole sorgerà alle 7.34 e tramonterà alle 16.30. Avvio di giornata discreto nelle Marche dopo le perturbazioni di ieri, ma dal pomeriggio il tempo peggiora di nuovo con piogge rovesci in avanzamento da ovest. Le massime sono in leggero rialzo, le temperature minime si fermano sempre ai 3 gradi, mentre le massime ieri erano sui 5 gradi, oggi ci dovrebbe essere un rialzo. Questa mattina non è molto freddo, devo dire. Si raggiungeranno i 13 gradi, sulle coste i venti spireranno da una direzione di sud-est, mentre nell'interno da sud-sud-est il mare è molto molto mosso. Ci c'è una perturbazione per quanto riguarda il moto ondoso. Bene, a questo punto passiamo tranquillamente alle notizie di carattere sociale, ma di carattere anche economico. Perché i giornali che stamattina aprono le loro pagine, specialmente quelle di Fano, con un'attenzione alla cantieristica. Vediamo qui il titolo pubblicato dal resto del Carlino. Maxi cantiere wider, col vento in poppa, primo catamarano pronto già a febbraio. E vediamo qui gli stadi di costruzione di questo nuovo cantiere che sta per sorgere, che sta sorgendo nell'area limitrofa al porto turistico di Fano. Questo è lo stato attuale, così diventerà tra breve e i lavori procedono molto molto alacremente, tanto che già a febbraio si dovrebbe iniziare a costruire il primo maxi yacht. Vediamo qui dei rendering che rendono un po' l'idea di quello dell'immagine che assumerà il porto di Fano con la costruzione del nuovo cantiere. Un cantiere alto 14 metri, come indicato dal piano regolatore. Il progetto è stato ridimensionato, era così previsto un'altezza del doppio, ma che è stata dibattuta in Consiglio Comunale. E per tagliare la testa al toro, senza suscitare ulteriori polemiche, la wider ha ridimensionato il progetto. E quindi il tutto si terrà in una misura contenuta, così come previsto dal piano regolatore. Questo per non svettare sulle costruzioni circostanti. Dobbiamo dire che il porto di Fano, sì, è una zona industriale, ma anche è una zona turistica. Quindi l'estetica, l'immagine e anche il rilievo delle sue costruzioni deve adeguarsi con il territorio circostante. Vogatori virtuali in tutte le marche per conquistare il titolo nazionale. In questo articolo in grigetto vediamo un appuntamento organizzato dal club nautico fanese. Domenica mattina ci sarà un campionato nazionale a Fano di uno sport forse non molto conosciuto, quello del canottaggio indoor. Sì, perché si può remare, si può andare in canottaggio anche stando dentro un capannone, dentro una palestra. Ed è un sport, un campionato, questo che si farà in contemporanea con tante altre sedi in tutta Italia. È un campionato nazionale. Queste sedi dove vengono sistemati i vogatori, e quindi sono un'ottantina i partecipanti a questa gara, verranno coordinate da un sistema virtuale che fa capo alla Federazione del Canottaggio a Roma, dove si stilerà una classifica e il primo che giungerà in vetta potrà partecipare ai campionati mondiali che si svolgeranno a Toronto il prossimo anno. Una scuola di tutti i colori, stranieri, triplicati, il circolo di Sant'Orso il più multietnico. Questo è un articolo che riguarda l'esito di una conferenza stampa che si è svolta ieri alla Memoteica Montanari, dove l'assessore ai servizi educativi Samuele Mascarin ha rilevato un cambiamento della nostra società e della nostra composizione etnica per quanto riguarda la città di Fano. Nel 2003 la presenza degli studenti, dei giovani stranieri nelle scuole fanesi era del 4,2%. Ora è cresciuta tantissimo, abbiamo superato come media il 12%, ma in diverse scuole addirittura si è arrivati al 20,99%, quasi al 21%, ed è il circolo didattico di istituzione di Sant'Orso. Vediamo gli altri dati. Alla Padalino la presenza di studenti di origine extracomunitari e del 12,30%, alla Nuti del 7,95%, alla Gandiglio del 10,07%, nel circolo didattico di Fano San Lazzaro del 10,74%. Perché l'assessore Samuele Mascarin ha rilevato questi dati? Perché venerdì prossimo alle ore 17,30, nella sala ipogea della Medioteca Montanari, ci sarà un convegno con la presenza della 23enne scrittrice napoletana di origini nigeriane, Sabrina Effioiai, un fenomeno letterario con quattro romanzi già all'attivo. E poi ci sarà anche Paola Dignazzi, pedagogista già docente di pedagogia interculturale dell'UniUrb, quindi dell'Università di Urbino. Di che cosa si parlerà? Si parlerà della evoluzione didattica all'interno delle nostre scuole per quanto riguarda la presenza di questi stranieri. All'inizio il primo atto era quello di insegnare loro l'italiano perché provenivano da altri paesi e nulla sapevano della nostra cultura, soprattutto della nostra lingua. Ora invece si tratta di stranieri di seconda generazione che sono nati a Fano, che conoscono benissimo l'italiano e probabilmente parlano anche il dialetto fanese, così si è espresso appunto Mascarin nel presentare l'iniziativa di ieri. E quindi l'evoluzione didattica ha subito veramente un progresso notevole e di questo dovremmo tenere conto, sia a livello sociale che a livello culturale. Manca l'acqua in Ucraina, parte la colletta, una iniziativa questa che dimostra ancora un affano solidale, un'azienda concreta di pace che parla fanese e questa appunto l'iniziativa. Dalla camminata per la pace, che si è svolta il 22 ottobre, organizzata dall'associazionismo fanese, è nata ora la raccolta fondi Pro Stop the War Now, fermate la guerra ora, promossa dalla comunità Papa Giovanni XXIII. A questa iniziativa ha aderito il coordinamento per la pace di Fano, composto, come sappiamo, da numerose associazioni locali. Ebbene, che cosa si vuole ottenere adesso con una nuova iniziativa di solidarietà? Si vuole ottenere un dissalatore contro l'emergenza acqua potabile nella città ucraina di Mikolov, dove esiste un'enorme emergenza idrica a cui si sta aggiungendo quella del freddo. Sappiamo come l'Ucraina è in preda ad una grave carenza energetica, ma le bombe hanno colpito anche tanti servizi, tanti sottoservizi, tra cui anche gli acquedotti e poi anche gli impianti di potabilizzazione e quindi oltre al freddo, oltre alla mancanza di luce, c'è anche una scarsità di acqua potabile. Quindi un'iniziativa che si propone di agire in questo senso. Passiamo ora ad una iniziativa che ha assunto il preside del liceo scientifico Torelli. Ragazzi, non perdete la speranza. Il preside ha scritto una lettera ai ragazzi e ai genitori. Si tratta di Raffaele Balzano, appunto il preside del Torelli. Ha preso l'iniziativa in seguito alla morte di uno studente di 16 anni che si è tolta la vita lasciando un biglietto, però non spiega le ragioni per cui ha assunto questa decisione. È una lettera piena di dolore e di speranza, quella che il preside ha scritto ieri mattina ai genitori di tutti i ragazzi e le ragazze che frequentano il liceo scientifico Torelli. Vorrei a detto farvi sapere che tale tragico evento ci permette di riaffermare con forza quanto voi ragazzi siete al centro pulsante del nostro mondo, il fulcro attraverso il quale tutti noi ruotiamo e dunque se un evento tanto triste e doloroso accade ciò genera in ciascuno di noi una ferita profondissima e ci causa una sofferenza dalla quale è difficilissimo riprendersi. Insomma la morte di un ragazzo non può restare, non può renderci indifferenti, non può rimanere su una pagina di giornale che si chiude il giorno stesso e poi si dimentica. No, rimane tra noi perché dobbiamo interrogarci, dobbiamo riuscire a evitare che accadano ancora queste cose e valorizzare soprattutto i giovani. Una bella lettera su cui riflettere, spedita appunto dal professor Balzano. Nuovo parco agrivoltaico nell'ex cava di Torno, un nuovo progetto spunta al confine in una cava di Torno, si tratta di un nuovo parco agrivoltaico al confine Trafano e Cartoceto, stavolta non sulle colline ma nell'ex cava di Torno di proprietà dell'impresa Penserini, una delle cave abbandonate, le cave Penserini. Ci siamo resi disponibili, ha spiegato Stefano Penserini, perché nelle condizioni in cui ci troviamo come paese, sappiamo come le bollette aumentino e ci sia scarsità di energia, certe scelte vanno fatte. Tra l'altro non parliamo della costruzione di un grattacielo che rimarebbe sul territorio per oltre cent'anni, ma di una opera transitoria che avrà una durata di 20-25 anni. In questa piantina vediamo la localizzazione del nuovo impianto agrivoltaico, vediamo qui la valle del Metauro, qui la linea elettrica esistente, qui il raccordo e qua l'impianto agrivoltaico che dovrebbe essere realizzato nella cava Penserini. È un'opera importante, però insomma desta sempre perplessità, infatti alla prima previsione quella che doveva così prendere in esame le colline, si è sollevata un po' tutta la popolazione. E poi qui abbiamo ancora un articolo che riguarda la contesa per la farmacia di Marotta, che una volta era di proprietà del comune di Fano, poi per quanto riguarda il passaggio di Marotta sotto il comune di Mondolfo anche la farmacia è stata contesa per il passaggio sotto l'altro comune. Però c'è stata una sentenza del Tar che ha decretato che la farmacia ora deve essere assegnata definitivamente a Mondolfo, tanto che l'Ase deve pagare la concessione della farmacia al comune di Mondolfo e non più a quella di Fano. Ora anche il subcomissario di area vasta Romeo Magnoni rende pienamente operativo il passaggio della titolarità di questa farmacia e quindi Ase paga il comune di Mondolfo e non il comune di Fano. Morto a 23 anni disposta all'autopsia, San Costanzo sotto shock per il giovane originario di Venezia. Una tragedia anche questa che ha profondamente colpito l'intera comunità di San Costanzo. A Tavernelle invece sorge un campetto tutto nuovo, un nuovo manto sintetico da 62 mila euro per il calcio A5. Ebbene sono iniziati i lavori per la riqualificazione di questo campo che consentirà appunto ai giocatori di esprimersi al meglio. A Urbino, siamo alla pagina di Urbino. Caro bollette, si va al cinema con la copertina. Sì perché? Perché i proprietari della sala cinematografica hanno ridotto il tempo in cui sta acceso il riscaldamento. E se la temperatura si abbassa cosa fanno? Ebbene mettono a disposizione delle coperte agli spettatori. Vabbè è un sistema pratico, pragmatico, che si risolve un po' così. Precariamente però la situazione. Due ospedali senza future certezze. Una presa di posizione della consigliera regionale Micaela Vitri, che fa l'esame degli ospedali di Sasso Corvaro e di Macerata, il cui futuro resta un rebus. La consigliera dice che la giunta regionale in realtà non risponde. E l'assessore Saltamartini non è stato molto esaustivo nelle ultime risposte date in consiglio regionale alle interrogazioni sia date agli esponenti della maggioranza che quelle delle opposizioni. Sappiamo come Marta Ruggeri del Movimento 5 Stelle, Luca Serfilippi della Lega hanno coinvolto, hanno proposto degli argomenti che interessano la sanità affanese. Ma l'assessore Saltamartini o ha rimandato alle previsioni del nuovo piano sanitario regionale o è stato evasivo per quanto riguarda le risposte. Al momento dunque si è un po' incerti, infatti la giunta non risponde, ha dichiarato la Vitri. Giriamo ancora la pagina e vediamo come a Cantiano torna una bellissima opera. Torna a splendere il tondo salvato dalle acque. Si tratta di un magnifico dipinto, di una Madonna del Cardellino con Bambino e San Giovannino, opera proveniente dalla chiesa collegiata di San Giovanni Battista di Cantiano, colpita purtroppo dall'alluvione dello scorso settembre. Ebbene il dipinto è tornato nella sede propria e quindi arricchisce sia di arte, di cultura, di fede e di spiritualità questo ambiente molto molto bello. È stata compiuta un'operazione, spiegano Paolo Selciarini e Delisa Polidori dell'Ufficio Diocesano, beni culturali ecclesiastici, che in primo luogo rappresenta un'attività di tutela del bene. La collegiata è infatti stata gravemente lesionata dall'alluvione e speriamo che queste opere possono essere recuperate nel migliore dei modi. Ed ora passiamo a dare un'occhiata al Corriere Adriatico. Lo apriamo sulla pagina di Fano, dove l'apertura è ugualmente dedicata alla cantieristica, però si parla di strada delle barche. Il Corriere Adriatico ha posto l'attenzione anche nei giorni scorsi su questa nuova struttura, i cui lavori dovrebbero essere commissionati, data che è prossima la scadenza della gara d'appalto, il bando che è stato pubblicato dall'amministrazione comunale e quindi c'è molta soddisfazione tra gli operatori della cantieristica per la realizzazione di questa nuova struttura. La strada delle barche è attesa da anni, avremo meno spese e più sicurezza. Ne parlano tre esponenti significativi del settore della cantieristica che sembra aver risalito la china dopo la crisi seguita dal periodo del 2008 in avanti, quando poi è arrivata la crisi internazionale dei mercati in seguito appunto all'economia virtuale che ha subito un collasso. Ora piano piano questo settore importante molto molto radicato appunto nell'economia fanese sta riprendendo le posizioni che erano state perdute e ritorna ad essere una forza trainante dell'intera economia fanese perché poi dà lavoro a un vasto indotto. Ebbene dicevano e parlano Maurizio Testuzza che è l'imprenditore del cantiere navale Adria Sail che ha sede nella zona industriale di Ponte Metauro e parla anche Fabio Fraternali della Wider, la società che sta costruendo un grande cantiere nell'area portuale e vediamo qui in questa fotografia lo stato attuale del cantiere e ne parla anche Massimo Minnella Sales Manager presso la Team Italia, una azienda che ha individuato proprio come proprio obiettivo quello della navigazione integrata con il proposito di aumentare il livello di sicurezza in mare e semplificare l'utilizzo dei dispositivi di bordo, insomma anche l'arredo, anche le cose che corredono uno scafo sono molto molto importanti per evidenziare la qualità della produzione fanese. Intanto avanza il cantiere Wider, i lavori procedono spediti, l'allestimento del primo catamarano previsto addirittura nel mese di febbraio. Anche il Corriere Adriatico parla del nuovo parco agrivoltaico che spunta tra Fano e Cartoceto, il Comune deve esprimere un parere, un traliccio passa sul territorio confinante e dal tenore di questo articolo sembra che il Comune sia propenso a dare un parere positivo. Vedremo però come si evolverà la situazione. Cade in bici nell'urto con un'auto all'incrocio. Fano si conferma rischio per ciclisti e pedoni, soprattutto i ciclisti. Attenzione quindi quando si si mette nelle rotatorie, quando si attraversano le strade. Comunque ieri un ciclista di 51 anni, di origini polacche, ma residente a Fano, è caduto a terra in seguito all'urto contro un'automobile alle 10.30 all'incrocio tra via Palazzi e via Nino Bixio nei pressi della caserma Paolini. Vediamo ora che cosa accade a Mondavio. A Mondavio la solidarietà si fa comunità regali nelle scatole di Natale. A Mondavio l'invito a consegnare i pacchi per le famiglie seguite dalla Caritas. Natale ovviamente è un periodo di grande solidarietà. Vediamo come le iniziative si accavallino giorno dopo giorno. L'amministrazione comunale di Mondavio ha proposto la lodevole iniziativa scatole di Natale per regalare tutti un sorriso in questo periodo e sappiamo quanto ce n'è bisogno. Un gesto concreto nei confronti di chi ha più bisogno che nelle precedenti edizioni ha riscosso una notevole partecipazione. Quindi la cittadinanza concorre in maniera solidale a questo invito del Comune. A Senigallia invece si parla di qualità della ristorazione. Ristoranti di pesce Cedroni Trionfa, il clandestino numero uno in Italia, lo chef stellato incoronato da 50 top itali, splende intanto gli assi secondo nella classifica dei grandi ristoranti e nelle guide dei ristoranti. Insomma la ristorazione marchigiana è presente ed è presente con grande qualità. Diamo anche qualche notizia di Pesaro. Si parla di alberghi in questa pagina e quindi di turismo. Il Kreiser, cantiere aperto, l'urban hotel di Filippetti sarà pronto per giugno. Operai a lavoro per allestire i ponteggi, l'albergo acquistato all'asta un anno fa. Risorge dunque questa storica costruzione della città di Pesaro. Il cantiere Cruiser è ufficialmente aperto. In questi giorni, sfidando poi anche il freddo pungente, i lavori, gli operai stanno allestendo i ponteggi, sistemano i teli a copertura delle facciate e risorge così l'albergo a quattro stelle. Falla nel sistema di protezione. Dopo il delitto molto è cambiato. Questo è un articolo che riguarda il processo che si sta svolgendo in corte d'assise a Rocco Versace per l'omicidio del Natale 2018, dove appunto la mafia ha colpito anche a Pesaro. È stato un regolamento di conti. Collegato da un luogo segreto con una telecamera che mostrava solo una parte della scrivania, Girolamo Biagio Bruzzese, collaboratore di giustizia, ha voluto ascoltare e vedere l'apertura del processo in corte d'assise a Pesaro a carico di Rocco Versace, che è il 57enne accusato di omicidio in concorso per aver aiutato a pianificare l'omicidio del fratello Marcello Bruzzese, freddato da una scarica di proiettili il 25 dicembre, era il giorno di Natale del 2018, davanti alla sua abitazione in via Bovio a Pesaro. Durante il processo si è rilevato anche che il sistema di sicurezza che era stato così progettato, organizzato nella città di Pesaro, forse avrebbe dovuto essere migliorato e se questo fosse accaduto l'omicidio non avrebbe potuto avere luogo. Maltrattamenti alla moglie, ne abbiamo un altro, ormai ne abbiamo uno al giorno, lui patteggia e lei lo bacia. Finalmente un finale a sorpresa, un buon finale per una situazione di violenza. Finale a sorpresa per la coppia uscita insieme dal tribunale e le mogli qualche volta, anzi, purtroppo spesso abbozzano, prendono le botte e poi magari si riappacificano, ma questo è un esempio di amore. È finito a processo per maltrattamenti alla moglie, ieri ha patteggiato due anni a conclusione della sua travagliatissima vicenda familiare, lei poi lo ha abbracciato e baciato, lui perché nel frattempo con la sentenza appena emessa era caduto anche il divieto di avvicinamento tra coniugi, quindi tutto si è risolto in questo modo. Freno a chi corre troppo, blindiamo anche l'Arzilla e Pesaro corre ai ripari per limitare gli incidenti stradali, strettoie e percorsi pedonali, il Comune interviene per prevenire gli incidenti, soprattutto anche nella zona dell'Arzilla, poi anche Santa Veneranda. Diamo anche qualche notizia per lo sport, lo vediamo sul resto del Carlino, la vis blinda la difesa per risalire la china, a Carrara sarà fondamentale fermare l'emoragia di gol subiti, a Carrara la prossima partita, mentre Fano aspetta un nuovo attaccante, Fano regalo di Natale, acquisto in arrivo. Il manager Danielli potremo chiudere per un rinforzo anche prima delle festività. E questa è l'ultima notizia. Massimo Foghetti vi saluta, vi dà appuntamento a domani alle 7 per le notizie del giorno alle ore 20.30 nel TGI di Fano TV, occhio alla notizia. E questo è tutto per il momento, buona giornata. Grazie a tutti.